Ciao a tutti, oggi vi presentiamo un microscopio trinoculare con inclinazione a 45 gradi, in particolare si tratta di un microscopio stereoscopico. Ora stiamo vedendo come si possono vedere minerali, ambre, tessuti, questo in particolare è un jeans, schede elettroniche e tutto ciò che ha una tridimensionalità. Qui vediamo i particolari della testa, del microscopio, i due oculari e il terzo occhio. Questo microscopio ha ingrandimenti da 10x a 40x con zoom, la testa può ruotare attorno al perno centrale di 360 gradi e in più abbiamo un'illuminazione doppia. Sia incidente che trasmessa. Qui vediamo come si applica l'adattatore sul terzo occhio, proprio per inserire una telecamera specifica per microscopia ecco che inseriamo la telecamera collegata tramite usb a un computer proviamo a vedere il meccanismo di un orologio come si vede sullo schermo tramite la telecamera grazie a tutti per l'attenzione visitate il nostro sito elettronicadidattica.com vi aspettiamo per i nostri prossimi video ciao a tutti